L'artigianato ha trascorso un anno di sofferenza ma non si è fatto travolgere dalla crisi covid anche grazie alla spinta delle nuove imprese gestite da stranieri e quanto emerge dal report dell'ufficio studi e statistiche della camera di commercio di Firenze. La contrazione del numero di imprese si è fermata all'1 per cento del totale, meno 28.428 realtà. Al di là dei numeri la crisi è ancora più evidente nelle grandi città. Dobbiamo imparare a leggere questi dati per calibrare le azioni del futuro, capire dove sono ambiti di crescita e dove impiegare eventuali somme di denaro per la ripartenza. Nonostante le difficoltà sono cresciute del 2,4 per cento le SRL artigiane così come è consistente l'aumento di attività artigiane gestite da stranieri. 26,8 per cento nella provincia di Firenze rispetto al 21,9 toscano e al 15,4 nazionale. Il calo delle imprese artigiane è di peso quasi esclusivamente dalle imprese individuali. Il calo in termini percentuali in questo caso è del 3,3 per cento. Beh si parte dalla fragilità dell'essere artigiano, quindi sono ditte individuali nel vero senso della parola spesso, cioè partite IVA che rappresentano uno, due, tre persone al lavoro, dove l'imprenditore è spesso di fianco a suo figlio o a sua moglie, magari con un dipendente, ma la fragilità di una piccola impresa è imparagonabile alla multinazionale, all'impresa strutturata.